Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in sé stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in sé stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, siate pronti, con le vesti stretti ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Con queste parole il Signore ci ricorda che la vita è un cammino verso l'eternità. In questa prospettiva ogni istante diventa prezioso, per cui bisogna vivere e agire su questa terra avendo la nostalgia del cielo. Noi non possiamo capire davvero in cosa consista questa gioia suprema. Tuttavia Gesù ce lo fa intuire con la similitudine del padrone, che trovando ancora svegli i servi al suo ritorno, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. La gioia eterna del paradiso si manifesta così. La situazione si capovolgerà e non saranno più i servi, cioè noi, a servire Dio, ma Dio stesso si metterà a nostro servizio. E questo lo fa Gesù da adesso. Gesù prega per noi. Gesù ci guarda e prega il Padre per noi. Gesù ci serve adesso, è il nostro servitore. E questa sarà la gioia definitiva. Il pensiero dell'incontro finale con il Padre, ricco di misericordia, ci riempie di speranza e ci stimola l'impegno costante per la nostra santificazione e per costruire un mondo più giusto e fraterno. La Vergine Maria, con la sua materna intercessione, sostenga questo nostro impegno.